Accendi Bluetooth e Wi-Fi nel telefonino Controlla che la connessione wireless si attiva Cerca con Google o altro HP Smart 123.hp.com Clicca su Installa HP Smart Se scaricata dal sito ufficiale l'app è gratuita Clicca su Installa Attendi che finisca il caricamento Clicca su Apri Oppure clicca sull'icona HP Smart Accetta tutto e segui le istruzioni Le istruzioni dipendono dal router, dalla connessione eccetera Ma vedrò di farle i più universali possibili Assicurati che la stampante sia accesa e che ci sia carta La stampante deve essere collegata alla rete o in modalità setup La modalità setup si attiva alla prima accensione della stampante e ci rimane per due ore Per ripristinare la modalità di configurazione premere il pulsante annulla Dopo tenere premuto il pulsante wireless per almeno 20 secondi Finché le spie di attenzione e di alimentazione non lampeggiano Aspettare 60 secondi Adesso nell'app Smart Clicca su Aggiungi prima stampante Oppure su Configura nuova stampante Chiederà come collegare la stampante In Wi-Fi Continua Continua Se i servizi di localizzazione sono disattivati Tocca OK e segui le istruzioni L'app cercherà la stampante Se la stampante non è in elenco Tocca su Aggiungi stampante O Stampante non in elenco Seleziona la stampante Se è richiesto Inserire la password della rete wireless Poi tocca Continua HP Smart trova la stampante E completa la procedura Segui le istruzioni Poi chiudi tutto È possibile che venga richiesto di installare il plugin HP Print Service Adesso puoi stampare dal telefonino Span diciendo Poi istruzioni Oggi Direc Ha 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 Grazie a tutti.